I giovani tendono a preoccuparsi in generale, però alla fine tendono a non preoccuparsi a fare e soprattutto alla conseguenza delle loro azioni, perché magari, non lo so, cade un fazzoletto per terra, però non importa perché è un fazzoletto, ma se mille persone continuano a gettare fazzoletti, alla fine diventa una discarica e non più un parco. Studenti e aretini in azione nei parchi cittadini per la valorizzazione dei beni comuni. Anche quest'anno, infatti, Lega Ambiente Arezzo ha aderito alla campagna nazionale Puliamo il Mondo, nata per liberare da rifiuti e dall'incuria parchi, giardini, strade e piazze della città, e quest'anno dedicata al tema dell'abbattimento delle barriere e dei pregiudizi. I giovani aretini si sono così dedicati al monitoraggio di alcuni parchi della città. Andati dal parco dell'Ancorino, un parco che generalmente si pensa che sia molto pulito. Abbiamo diviso le aree in 10 metri quadrati, due aree da 10 metri quadrati, e in queste aree abbiamo raccolto tutti i pezzi di rifiuti e tutto ciò che poteva essere comunque inquinante, mettiamola così. I dati che abbiamo trovato sono stati abbastanza allarmanti perché si pensava non ci fosse niente, però in realtà c'è molto, molto che non si vede comunque a prima vista. Le cose che più abbiamo trovato sono mozzicone di sigaretta e anche pezzi di glostica, mancarte a cartone. Il percorso dei giovani era iniziato qualche mese fa ed aveva toccato molte realtà dell'associazionismo della provincia aretina. Il percorso è proprio incentrato sulla comunicazione sociale, quindi c'è stato un incontro molto bello con Bruno Locicero, che è un esperto in questo settore, e che ha dato tanti consigli perché è importante capire dove si può agire per riuscire ad aumentare anche l'attenzione del pubblico. E poi ognuno di loro ha scelto, in base alla presentazione iniziale con tutte le altre associazioni che fanno parte di questo gruppo, di questa rete, hanno fatto delle esperienze pratiche con le varie associazioni, quindi da esperienze di scout, con associazioni invece animaliste, con legambiente o con associazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Alcuni di loro addirittura hanno scelto anche proprio di ritornare con queste associazioni in altri orari, indipendentemente da questo progetto, e noi speriamo proprio che quindi sia stata lasciata un po' una traccia, anche uno stimolo. Per me è stato molto curioso e anche un po' innovativo, perché ora del volontariato magari si pensa che lo facciano un po' le persone un po' più grandi, non parliamo di ragazzi, quindi per me è stato un po' un mondo nuovo.